Gli infortuni non diminuiscono né in Italia né tantomeno in Veneto che contende un triste primato, come mai? La maggior responsabilità riguarda la prevenzione, la preparazione dei giovani che si avvicinano al lavoro e anche da parte dei lavoratori che arrivano dai paesi stranieri che non sono formati come quelli che vengono formati qui in Italia. Quando ci si trasferisce in un paese dove chiedono mano d'opera è molto facile poi continuare con quel tipo di approccio che si ha. L'infortunio invece è sempre in agguato, non si sa mai quando può capitare. La prevenzione è fatta certo di formazione ma è fatta anche di controlli? Sì, certamente. Infatti anche la Regione Veneto aveva promesso un aumento degli ispettori. L'aumento di fatto c'è stato, però è andato a coprire il turnover di quelli che se ne sono andati in pensione. Quindi siamo tornati ancora al numero di partenza. C'è bisogno di maggior controllo, quello sì. Questo per quanto riguarda gli infortuni, c'è un altro spinoso problema che è quello invece delle malattie professionali. Bisogna avere anche molta collaborazione con la medicina del lavoro, gli spisa, perché sono loro quelli che dovrebbero aiutare i lavoratori a predisporre le eventuali pratiche per i riconoscimenti. Cioè non si ottengono le risposte che occorrerebbero? Sì, i tempi sono lunghissimi. Per un ricorso con l'Istituto, con l'INA in questo caso, a volte passano anche 7, 8, 10 mesi, un anno. Non ci sono risposte, quindi le risposte sono molto tardive e poi alla fine la gente lascia anche perdere perché non vede una via d'uscita.